e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo venuti e stiamo al mare non siamo in garage però visto che siamo in ferie probabilmente lo sarrete anche voi non volevo lasciarvi senza il consueto video del venerdì quindi questo è più un esperimento per me per vedere cosa riesco a fare con solo gopro e telefono non parleremo di bici ma vi racconto la qualcosina di questa vacanza ciao 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 ciao